3 appuntamenti 3 appuntamenti ha così debuttato al Golf Club Castello di Tolcinasco regalando un prezioso tocco d'arte a tutti i partecipanti alla gara con una grafica a scelta a tiratura limitata firmata dai maestri Ricci, Martino, Minestrini e Schiaroli Golf e Art Friends aspetta adesso tutti gli appassionati di golf domenica 6 agosto al Golf Club Cortina e il 24 agosto al Golf Club Courmayeur per altre due gare all'insegna di arte e golf